C'è arrivata una segnalazione dalla squadra Animal Lovers. Con pochi clic è possibile comprare animali sul web. Parliamo di animali in via d'estinzione, come i panda, o di animali esotici e poco domestici, come le giraffe o i serpenti rari. Questi animali vengono spediti per posta, affrontano viaggi lunghi e pericolosi, sottratti ai loro habitat e spesso muoiono. Non a caso, nell'occasione, si parla di un vero crimine, wildlife web crime. Polizia e associazioni animaliste sono sempre al lavoro, ma per individuare queste truffe hanno bisogno delle segnalazioni di tutti. Ok ragazzi, questo messaggio è per voi. Aiutateci a pubblicare una blacklist, diventate investigatori. Contribuite a smascherare chi vende illegalmente animali online. Unitevi a noi nella difesa degli animali.